amici del mio viaggio a roma dell'angolo consumatore andrea già è partito adesso facciamo la scala la famosa scalinata e poi diciamo che forse questa scala qui facendola non mi dà molto fiatone perché sto andando in palestra da futura fitness colosseo quadrato siamo gladiatori oggi andrea gladiatori oltre poi non potremo andare perché come vedete e laggiù video sorvegliato ma c'è pure la recensione chissà se prima andrea qua c'era sta recensione era libero accesso guardate non riprendendo l'intera grandezza del palazzo scusate abbiamo un po di fiatone non siamo più abituati l'età avanza guardate che forza non riprendendo l'intera grandezza del palazzo ma solo gli archi sembra di stare al colosseo ecco perché lo chiamano il colosseo quadrato guardate da qua si possono ammirare anche le statue andiamo di qua una scalinata così è tipo film e darò più guardate da qua